9-1-1, what's your emergency? ober carico no il nostro il mondo è già è già nostro no aspetta 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 madonna mia occhio uuuuuh sei tu o no? allontanati cazzo che cazzo avete fatto? a regola, prova un po' a controllare hello there oh no era ancora vivo uno si cazzo c'era le scarpe di plastica libero libero la sicurezza ha giusto ma ci togliamo? ma non avete riportato un cazzo? si, devi pure riportare si, voglio i punti negativi sennò che gusto c'è è un colobro da sta porta che poi è rimasto in piedi lo stesso vaffanculo senti tipo per favore c'ho dei bambini smog c'era bisogno non si sa mai cancola voto io please non barai torni Io pensavo che finiremo le munizioni ancora prima di finire la regione Piano di sopra No, ci andiamo ora Sto a cominciare a rendere il mondo un posto un po' più Un po' migliore Ma Io ti stavo per sparare addosso Occhio Ok Vabbè è giù Porco dio dove cazzo Ma Perché mission soft complete What Cosa Porco eh no, la coppola è un uomo di gazzanafisi Ma sembra l'esercito russo, la cazzo ha saltato in teatro Mamma mia Forza Annamo E ricordate Niente russo Ahahahahahahahahahahahahahahah Andiamo alla prossima casa Aspetta dove sto andando io dall'altra parte Ma che prossima casa, mo tu mi usci fuori da qui Beh è una cosa, le gallerie dobbiamo andare Se ti fai due conti quando chiamano la SWOT perché devono fare pulizia no? Per certo Ecco quindi Via Oddio, stanzi, 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 tanti niente Shhh Shhh Ti non devi parlare Porco, mi devi andare a piangere, mi fanno qui, porco Ok Co Foto all'antifurto Ottimo, in realtà Tu pari, puoi, puoi Ma per favore, puoi, puoi, puoi Per favore for favore Per favore Un bambino Pum E ho messo, i terroristi siamo noi, non sono loro Ma loro non sono terroristi, sono tossici come direbbero i capi riccardo ha scelto la vita sbagliata cazzo madonna cosa cazzo ha fatto quel fottuto un culo mi ha sparato siete morti no come sei morto ulder? no no sono ferito basta sono riuscito a ammazzarlo ah ok a sta porta non l'apri fra mamma mia che dolore andiamo giù fra oh abbiamo eliminato tutti ma che cazzo ma l'ho fatto o no ah ma siete voi qua sotto ulder questi erano tutti e due secondi comunque ammazzare la velocezza di mostrare quanti secondi ci avevamo messo ammazzare ammazzare no è ancora oh a me metà mi esce un soft completo cos'è arresto no mancano due sospetti ancora mancano due sospetti no è giusta ah arresta due sospetti no li abbiamo ucciso finita due le ho ammazzate bella bella mi piace dai abbiamo ripulito bene quanti secondi ci avevamo messo sei minuti sei minuti hai visto troppo 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 però ci mancava da riportare non so aspettato ora andiamo a vedere il meno non so aspettato non so non so non so che